E la Francia piange la scomparsa dell'ex presidente Valéry Giscard d'Estaing, morto per Covid all'età di 94 anni. Europeista convinto è stato tra i protagonisti di una fase di profonda modernizzazione del paese. Un politico del progresso, ha detto il presidente Macron, che questa sera parlerà alla nazione. Il corrispondente da Parigi, Alessandro Cassieri. Quando vinse le presidenziali venne ribattezzato il Kennedy francese, era il 1974 e Valéry Giscard d'Estaing aveva 48 anni. Aristocratico, ex ministro delle finanze di De Gaulle, eletto candidato dal partito conservatore, Giscard arriva all'Eliseo e riforma il paese, stupendo i suoi elettori quanto i suoi oppositori. Facilita le procedure per il divorzio, liberalizza l'aborto, abbassa da 21 anni a 18 la maggior età. A livello internazionale è lui a concepire il sistema monetario europeo che porterà 30 anni dopo all'euro. E' sempre lui a inventare le riunioni periodiche tra i leader dei paesi industrializzati, l'attuale G7, ma proprio all'estero inciampa nello scandalo dei diamanti ricevuti in dono dal dittatore del Centrafrica, Bocassa. Diamanti trasformati in denaro per le organizzazioni umanitarie africane. E' sempre stata la difesa di Giscard, ma l'accusa arriva in piena stagione elettorale e Giscard perde contro le socialista Mitterrand. Europeista convinto, oggi Macron, Hollande, se ha così, riconoscono a Giscard il merito di avere trasformato la Francia. Quanto all'Unione Europea è sempre stato persuaso della sua forza. In piena ondata sovranista, tre anni fa, in un'esclusiva al Tg1, diceva di non essere preoccupato, che la Brexit avrebbe fatto male soprattutto agli inglesi e che nessuno dei cittadini che guadagnano in euro vi avrebbe più rinunciato. E torniamo in Italia investita da...